Musica Sono disoccupata, senza lavoro sto vendendo anche la mia casa di due locali schifosi per sopravvivere, perché noi siamo popolo, il popolo è unito, non nelle varie categorie, popolo. Qua nessuno capisce la parola popolo. Però cerchiamo di cominciare a disobbedire a questa vergognosa palestra dei Brassini, non è un reato, non è un reato, quindi io credo che vada applicato l'articolo 52 della Costituzione, la difesa della patria è sacro del vero di ogni cittadino e quei cittadini si devono assolutamente ribellare a questa infamità che abbiamo, a 360 gradi. Non siamo più rappresentati, siamo traditi, siamo venduti. Questi sono tutti artigiani e commercianti, hanno chiuso, stanno chiudendo, artigiani e commercianti si stanno chiudendo, sono distrutti. Secondo me a chi deve andare la solidarietà. Questa gente paga le tasse, paga per tutti, questa gente ha lavorato, sta lavorando, ma è come noi, io sono contadino. Stiamo perdendo tutto, non abbiamo più la minima possibilità di salvezza, di sopravvivenza. Ci stanno distruggendo, domani chi paga? Moriamo di questo? Domani ai miei figli che ci do, io ho quattro figli, cosa ci do da mangiare? Gli altri cosa ci danno 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 da mangiare? Vedo, cominciai. Part Madame la Macronadrice.